Il 14, 15, 16 ottobre nel padiglione C3 Stand 122-123 l'Associazione Turistica Cilentomania parteciperà per il decimo anno consecutivo al TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Cilentomania anche quest'anno, nonostante l'emergenza Covid-19 presenzierà a questa importante manifestazione con uno stand ancora più ampio rispetto agli anni scorsi e presso il quale presenterà il territorio, il Parco del Cilento, i comuni che ne fanno parte, le strutture che vi operano, le attività che si svolgeranno puntando su un'offerta turistica diversificata, ecosostenibile e volta soprattutto a viaggi esperienziali in cui il turista visitatore è protagonista attivo. Il fine ultimo della associazione, come sostengo da anni, veicolare l'immagine del Cilento in Italia e all'estero per fare del mio territorio una meta turistica ambita da italiani e stranieri, ha commentato il presidente Orlando Di Scola. Negli anni abbiamo creato una fitta rete territoriale che si arricchisce costantemente di nuove figure professionali, ciascuna con compiti specifici e portatrici della sua esperienza per il raggiungimento di un obiettivo comune, pubblicizzare il Cilento.